Siamo in diretta, sono in diretta. Ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Oggi sono da solo, oggi live in solitaria per presentarvi una cosa a cui sto lavorando da tanto tempo e a cui sono carico a pallettone oggi. Io vi dico solo questo ragazzi perché, bello è bello, sono state settimane di intenso lavoro e adesso vi racconto un po', vi mostro di cosa si tratta ovviamente, siamo qua apposta, però vi racconto anche un po' come è andata l'evoluzione, come sono arrivato a riempirmi di lavoro per sviluppare più cose possibile perché mi sono fatto ingolosire, ma alla fine secondo me è venuto fuori tanta roba, una bella piattaforma, una bella piattaforma. Buon pomeriggio perché da voi è pomeriggio, giusto? Io con gli orari sono un po' spasato, qua sono le otto e mezza di sera, sono in Thailandia, piccolo excursus per partire con calma, sono in Thailandia, tra l'altro stando qui dove c'era molto poco da fare, ma bellissimo mare, tra l'altro ho girato ieri il video, una giornata con me, a Day in the Life, non so più parlare, tutto il giorno con la GoPro e quindi quando lo monterò lo vedrete, ma cerco di farvi vedere ogni posto in cui vado, se non comunque merita per farvi un'idea. E quindi stando qua molto tranquillo in realtà ho avuto la possibilità di lavorare in maniera più tranquilla ed è per questo che poi ho iniziato a sviluppare e aggiungere cose su cose che adesso vi mostrerò. E anche perché domenica partirò per il Giappone, direzione Tokyo e poi in realtà staremo a Kyoto per un paio di mesi e lì onestamente voglio lavorare di meno. Adesso con i progetti da freelance cerco di non esagerare, ma con la community invece ho voluto fare un rush per arrivare a questo momento, a mettere in produzione in questo momento la piattaforma in modo da essere poi un po' più tranquillo dopo. Buon pomeriggio, Mastro Giuppi, come va? Tutto bene, tutto bene, tu come stai? Qua oggi sono carico, sono stanchissimo, dico solo che stamattina alle 5 stavo risolvendo un bug, non un bug, stavo facendo una cosa a cui non avevo pensato, ovvero che è un web socket che uso per comunicare con un servizio sul cloud, che ho sviluppato adesso, che è su Docker. Voleva il certificato, non è che si è impazzito per farlo, però avevo tante di quelle cose da fare entro adesso, perché ho deciso, mi sono dato la scadenza. Fra l'altro, piccolo consiglio, se lavorate su progetti vostri, al di là di quello che fate, datevi delle scadenze anche importanti, questo a me aiuta a motivarmi molto di più a fare le cose anche quando non c'ho voglia, e in più mi dà la possibilità anche di fare più cose, quindi anche con YouTube, video, faccio tanti video perché sì mi piace, ma mi do anche la regola di farne tanti, quindi in generale se avete progetti vostri, side project o cos'è del genere, darvi una scadenza impegnativa anche, al netto dei vostri impegni se non me aiuta. Dunque, di cosa parliamo oggi? Di cosa parliamo oggi? Allora, io in questi giorni, come vi dicevo, ho lavorato, ce l'ho qua davanti, mentre inizio a parlarne, faccio un giro di prova, perché non ho fatto tanti test, ragazzi, ovviamente, perché non ne ho avuto il tempo. Li farò, ma ci tenevo a presentarlo oggi, era il giorno giusto per presentarlo e quindi ho fatto che venire qui, però direi che comunque un po' di test abbiamo fatti, già gli studenti della community hanno già fatto qualche test, hanno avuto un po' di feedback, ma di cosa parliamo? Andiamo, andiamo al sodo. Parliamo intanto, oh no, c'è già lo spoiler, no! Parliamo intanto della mia community di studio, come sapete io ho una community in cui appunto faccio formazione, in cui sono presenti dei corsi, abbiamo fatto tanti, è molto sperimentale, però in realtà è una community di studio. Cioè, il mio obiettivo è, visto che io negli anni ho creato tutto il mio metodo per cercare di studiare, soprattutto non procrastinare, insomma, le solite cose, l'idea è appunto, siccome esistono un sacco di corsi o di community anche per chi inizia da zero, comunque magari si approccia adesso, la mia idea invece è fare una community di gente che già programma, anche in maniera basica, però magari è uscito dal bootcamp, è uno union in un'azienda, oppure in un'azienda dove vede sempre le stesse cose, mi son detto, ma creiamo una bella community dove invece parliamo di quello che vogliamo per fare un salto di qualità, un gradino più alto. Ed è una community perché non è, ci sono dei contenuti, adesso vi faccio fare un giro sulla piattaforma nuova, ma l'idea è anche incontriamoci, parliamo, adesso anche parlando con i ragazzi ci siamo dati un calendario che prevede molti più incontri dal vivo, per quanti miei orari siano folli, ma è in più a giugno, sto cercando di organizzare un incontro davvero, non un incontro, una settimana dal vivo, ma ne parleremo più avanti. Comunque, quindi la mia idea è studiare insieme alle persone, quindi fare sì videocorsi, ma avere uno spazio, e quindi è così che funzionava adesso il tutto, no? Qua è il sito, c'era un back-end, un back-off, scusate, dove c'erano i corsi e potevi dare tutte le lezioni, c'era il Discord in cui fare chiacchiere con la community, c'era la newsletter, c'era la newsletter settimanale per parlare di cose, programmi, eccetera, e news anche, è tutto molto bello, come vi dicevo, vorrei fare più cose dal vivo, cioè fare più incontri, comunque da community, però ho detto, vabbè, devo rifare il back-office, perché c'erano solo questi video messi, diciamo, in delle schermate, una schermata percorso in tutte le lezioni, volevo aggiungere una parte di esercizi, ho detto, vabbè, rifacciamo l'applicazione, e quindi mi sono messo a rifare, a sistemare, sempre partendo dalla stessa base, è un'applicazione fatta in Next, React, eccetera, eccetera, ve l'ho raccontata ai tempi. Mentre facevo tutto questo, mi sono messo a giocare con, vi condivido lo schermo, perché è una community amica, come si suol dire, mi sono messo a giocare con lo, eccolo qua, Piero D'Avastano, ammazza che tempismo, Piero D'Avastano, che è venuto qua sul canale, oh mio Dio, sono solo, ok, perché, perché è venuto qua a parlarci di questo giocattolino qua, che si chiama Shisharket, ovvero lo stregatto, il warpers dell'AI, come ci piace chiamarlo, fatto appunto dal buon Piero, orgogliosissimo del suo gatto, che è appunto un framework in Python, che ti permette, avendo l'imchain sotto, che è una sua volta un framework per, cioè è il warpers dei language model, quindi se volete interfacciarvi con qualunque language model, non solo quello di OpenAI, vi dà un sacco di strumenti, figo, mi è piaciuto subito, perché abbiamo iniziato a vederlo con i ragazzi della community, insieme, effettivamente in modo super semplice avevamo un AI, chiamiamola così, un agente funzionante, a cui potevamo chiedere le cose, a cui potevamo sviluppare delle funzioni, comunque ne abbiamo parlato sia in live con Piero, anche in una live pratica, mi ricordo, sì abbiamo fatto un po' di live coding, e quindi proprio questo ha dato un bel boost all'idea di utilizzare un language model da qualche parte, ovviamente tutto questo, se vi ricordate, vi ho parlato del progetto Nomade, il progetto Nomade che appunto prevede l'utilizzo, il progetto che stiamo facendo qui ragazzi, anche se poi questo mio sviluppo di questa settimana ha rallentato il tutto, ma andiamo su quello, state tranquilli, ho già i task pronti, anche se poi non ve li ho mandati, parentesi chiusi. Fatto sta che l'idea è che possiamo utilizzare un agent, addestrarlo con i nostri dati, eccetera, utilizzando appunto questo framework, Shesher Cat, in Python appunto, quindi separato dal nostro mondo Next e TypeScript, ma va bene così, almeno vediamo qualcos'altro. E io per i fatti miei ho iniziato a giocarci, a studiarlo, ho fatto anche una masterclass, diciamo, per dare le basi a tutti, e man mano che lo studiavo, ho detto vabbè, interessante, visto che l'ho studiato e visto che poi lo vogliamo utilizzare nel progetto Nomade, potrei, visto che devo rifare la piattaforma, ficcarlo anche là dentro, però che gli facciamo fare a sta roba? Perché il mio problema era questo, mettere le AI sul sito mi sapeva tanto di una roba fatta giusto per fare, no? Cioè, metto le AI, così posso scrivere, c'ho le AI sul sito, bellissimo per il marketing, ma sticavo lì, quindi siccome io stavo rifacendo la piattaforma cercando di pensarla dal punto di vista degli studenti, cioè, quali sono le cose utili? Avevo tutta una lista di cose, tanto salutiamo anche Luigi, ciao Luigi, e Francesco, e quindi l'idea è, ok, mettere le AI su una piattaforma secondo me lascia il tempo che trova, perché la prima cosa che ho pensato è, vabbè, metti la chat, e puoi fare domande sulla programmazione a chat GPT, ma qual è il senso di averlo integrato nella mia piattaforma? Nessuno, a parte che pago io l'utilizzo dell'API e non le persone, ma non è nessun valore aggiunto, perché poi le cavolate che vengono fuori da, anche da GPT-4, quando si parla di programmazione, visto che è un sito di formazione, non mi faceva impazzire come idea. Allora, ho iniziato a pensare, beh, potrei, visto che ho iniziato a usare appunto lo shisharchette, quindi a creare quello che poi il rag, che non mi ricordo mai che cavolo vuol dire, un cavmented qualcosa, ovvero, usiamo il language model, GPT di turno, ma creo tutto un contesto di mie informazioni che vengono salvate su un database vettoriale, in modo da usare poi il mio language model per quello che è, un language model, un modello linguistico, mettimi insieme tutte queste robe e fammi una bella risposta, quello che interessava a me, nel senso, io ho i miei contenuti, ho le mie lezioni, ho tutte le mie lezioni che sono sulla piattaforma, ho detto, beh, potrei creare una chat che risponde solo con quello che è nei corsi, poi il language model è un po' di suo, ce lo mette sempre, però, e potrebbe essere interessante. Allora, da lì mi sono messo a giocare, ho iniziato a chiedere molto, a partecipare, a chiedere un sacco di cose alla community di shisharchette su Discord, e vi consiglio, se iniziate a usarlo per svilupparci, andateci, perché sono super disponibili, ma è stata diventata una marchetta shisharchette, una marchetta alla mia piattaforma, ho sbagliato. Quindi, fatto sta che l'idea è, ok, cosa possiamo farci con le AI, da lì ho perso la testa, ho iniziato a giocare con mille cose, e vediamo che è venuto fuori, dai, iniziamo, entriamo nel vivo, condividiamo su schermo, basta, allora, quindi, il sito e lo stile è rimasto quello, anche se la barra di navigazione, grazie a Gianluca che mi ha ispirato, è cambiata, per me è molto più carina, così, così immersiva, sempre brutale, lo stile è sempre brutale, il sito è praticamente rimasto uguale, ci sono, ma non posso spoilerare perché spiego le cose nuove, però se ci andate non potete vedere, comunque, di base, il sito è sempre, diciamo, l'ending di ingresso è rimasto uguale, spiego i corsi che ci sono, quelli in arrivo, tra l'altro Docker, che era la masterclass di una lezione introduttiva, a grande richiesta è diventato un corso, quindi adesso faremo il corso di Docker e Kubernetes. Bene, quindi, non spoileriamo, non spoileriamo, andiamo, facciamo, anzi, facciamo il logout, andiamo a fare il login, quindi, ho rifatto la parte che ci sta dopo il login. Cosa volevo fare? Allora, la prima cosa che volevo fare era avere una prima pagina sensata, in realtà questa parte è rimasta più o meno uguale, ma volevo avere delle informazioni interessanti, la prima ovviamente era l'ultimo video uscito, vabbè, facile, la seconda, un po' più incasinata, è stata, vorrei mettere il continuo a guardare che c'è su Netflix e tutto, come lo posso fare, poi adesso vado più veloce, farò dei video in cui spiego pezzo pezzo, perché sono troppo contento, ma una cosa, per esempio, abbiamo un player adesso come Dio comanda, in cui mi salvo tutto, ho fatto tutto dei giri, quindi posso avere anche, quindi mentre guardate una lezione, guardate la lezione, la salviamo e abbiamo la lezione, benissimo. Dopodiché, la seconda cosa che volevo fare era, appunto, rifare la pagina del corso, che era solo una lista di video, allora ho deciso di fare la pagina del corso in questo modo, facciamo un bel menu laterale, con questi belli accordion, in cui per ogni lezione ho la pagina del video, va bene, l'abbiamo fatto più carino, bravi. Dopodiché ho detto, vabbè, voglio creare i capitoli, però qui inizio ad avere senso il tutto. Avere i capitoli per me vuol dire avere un contesto per ogni parte di ogni lezione, è stato un lavorone, madonna, andare a vedermi tutti, interessante, però non sono rivisto tutti i miei corsi, però la questione è che iniziavo ad avere un dato interessante, ovvero come sono strutturati i miei video. E da lì è venuta l'idea, ok, visto che ho le informazioni dei video, potrei, intanto salutiamo un attimo, Luigi, oh Luigi, ciao, ciao carissimo, ciao, ciao, quanto è bello vederti qua. Francesco che tra l'altro, vabbè, un piccolo flash, poi ti volevo scrivere, non ti ho scritto perché volevi una mano, hai fatto una roba, vabbè, sappi che l'ho vista passare, se non ero così incasinato, ti avrei detto io ci sono, vabbè, chiusa parentesi, grazie, grazie, la prima impressione è figa, vabbè, lo stile era già questo, quindi è rimasto uguale, però gli ho dato ordine, ho dato un po' di stile, diciamo, funzionalità, perché appunto l'idea era, i capitoli servono, quindi adesso il player figo, mi salvo dove sei arrivato, per esempio qua sono arrivato qua, però appunto ho le informazioni dei capitoli, lì ho messo in funzione il cervello su quello che avevo fatto su Shesharket, ovvero io potrei, potrei addestrare un AI con tutti i miei video, ho le trascrizioni di tutti i miei video, dopodiché però potrei cercare di andare a collegare quelli che sono i video con la conoscenza della mia AI, chiamiamola così, del mio JUPT e avere qualcosa di molto interessante, ovvero, eccolo qua, abbiamo la nostra chat, bello, però qual è il senso? Che oltre ad essere addestrata con i miei video, e quindi cerca, adesso è un lavoro in progress, qua c'è un bel beta, come potete vedere, è un lavoro in cui cerco di affinare il fatto che risponda solo con quello che trova nelle mie trascrizioni, poi con un certo grado di flessibilità, ma la cosa interessante è che l'ho addestrata per fare in modo che conosca i miei video, quindi per esempio se io gli chiedo come funziona lo use context, per esempio, che è una cosa di cui parliamo nel corso delle hack, tra l'altro se adesso non succede niente o qualcosa non funziona, il bello della diretta, mi spiace, vedete che c'è scritto beta qua, beta, e quindi non funziona, però se funziona, vado a chiamare la mia istanza di ShasharCat, che sta su Docker, su Cloud, a tutta altra parte, ha funzionato tutto, che cosa ha fatto? Prima di tutto ShasharCat, giusto così, ma ne parlerò poi in altri video appositi, quello che fa è andare prima di tutto a leggere sul suo database vettoriale, sul suo database ho caricato tutte le mie lezioni, e quindi lui sa tutto quello che io so, tra l'altro ho caricato, adesso poi Piero dimmi se ne è una cavolata, ma ho preso spunto da un plugin di YouTube, mi sembra, per questa cosa, in realtà carico anche un riassunto, per dargli un po' di forza al contenuto, vabbè, dopodiché, però, come vedete, alla fine mi dice, ne parlo in questa lezione, e qui, se io ci clicco, mi porta alla lezione in cui io ho parlato di quella cosa, esattamente nel momento in cui ne ho parlato, se io adesso faccio play, ma vedete, use context, qua sto parlando di use context, e quindi ho la possibilità di interrogare Gupit, chat Gupit, questa è la versione chat di Gupit, che ha mille volte, come vedremo, e posso chiedergli appunto qualcosa, e attendere, risponderà sempre, solo con i contenuti della piattaforma, andando anche a, come dire, a portarti all'esatto momento in cui hai parlato di quella cosa, e quindi questo è utile, perché mi permette di mettere ordine ai contenuti, e dare agli studenti la possibilità di cercare solamente quello che gli interessa, poi, qua ero su React, vale la stessa cosa per Next, algoritmi in fase di training, perché devo fare una marea di caricamenti, che ancora non avevo fatto, ma tutto quello che faccio e produco va a finire nel gatto, che si allena e ha una sua logica per andare a collegare i contenuti dei video con questo. Oh, grande Piero, figata, vabbè, ma il gatto, però tutto questo, tornando alla marchettata gratuita per lo stregatto, perché mi sono concentrato solo su quello che mi serviva, quindi sulla logica, l'LLM, come collegarlo, il database vettoriale, che per un attimo ho anche pensato di farmi io per giocare con queste cose, ma non solo mi avrebbe rubato un sacco di tempo, ma mi avrebbe anche, probabilmente non sarebbe venuto abbastanza di qualità con tutta una serie di cose. Shacher Cat si occupa di un sacco di cose, ovviamente questa è una roba che ho sviluppato io, perché non esiste, la devo renderla più portatile e farci un plugin pubblico, al momento è tutto molto GPT, quindi un po' legacy, ma la cosa figa, quindi che tutte queste cose adesso posso dargli in pasto i miei video, di volta in volta, e andare ad addestrare. Ah, scusate, voi siete rimasti sulla pagina di prima, vabbè, in realtà io ho cliccato, mi ha aperto un'altra pagina con il video dove parlavo di use context, giusto a riprova di questo, veramente odioso, streaming su ste robe, adesso poi Luigi ti risponde, a riprova, controprova, mi ha portato qua, mi ha aperto questo dove parlo del use context, e quindi è andato dritto dritto alla lezione. E questo secondo me è utile, è utile perché mette ordine nei miei contenuti video, prima, cioè, mi perdevo io, vedevo le lezioni, ok mettere i capitoli, il riassunto non mi dà tanto valore aggiunto qui, poi ci sono le cose chiave di cui parlo, ma sto pensando se aggiungi anche un riassunto qui, però invece quello che mi interessa è metto insieme le informazioni, le potete chiedere a c'è GPT direttamente e vi porta anche nei video, e insomma, questa qua è una cosa molto molto figa. Per rispondere a Luigi, legge da solo i video o è stato necessario dargli la trascrizione? In realtà ho fatto un po' di tutto, puoi fare quello che vuoi, cioè, è a step, se hai la trascrizione gliele puoi dare, cioè, ovviamente legge i video, lo fai tu, ce l'ho sviluppato io, puoi sviluppare di tutto, attraverso appunto Cheshire Cat, o a sua volta Lung Chain, puoi utilizzare il model per fare la trascrizione, ma dopo vedremo una trascrizione dal vivo, cioè, come si trasforma un video, perché, ma è l'ultima cosa, non posso spoilerarla, l'ultima cosa, secondo me, è in assoluto la più figa, devo capire, da testare gli studenti, adesso, poi sabato, che ci incontriamo, che ne parliamo, dovremmo allenarci, allenarla un po' questa cosa, ma ha il potenziale per essere una cosa utilissima, utilissima, e quindi, JupyT, il famoso JupyT, la prima cosa che fa, siamo su questa pagina, anzi, chiudo questa, rimangiamo qua, e, quindi la prima cosa che fa, JupyT, è la possibilità, di andare direttamente, interrogare i miei video, quindi, l'ho addestrato con i miei contenuti, ma in più, li ho, appunto, arricchiti, appunto, questo è poi lo scopo, di fare un agente, poi, Language Model, dopo, mette tutto insieme, mi dà delle belle risposte, mi ha dato la possibilità, di analizzare le cose, che caricavo, per capire, come, appunto, collegare i video, ma una volta sviluppato quello, a me, il model serve, per analizzare il testo, e basta, e, e quindi, questa è la prima cosa, e questa è la prima cosa che volevo fare, cioè, una volta che ho iniziato a mettere in piedi, diciamo, a prendermi tutti i contenuti, a fare i capitoli, eccetera, ho detto, ok, questa, può essere utile fare una chat, che faccia, abbia questo scopo qua, però, però poi, non bastava, non bastava, intanto che facevo questa, rifacevo questa pagina, e, una cosa che ho aggiunto, è la possibilità, visto che mi è stato chiesto da tanti, di avere un attestato di partecipazione, e, adesso, si ha la possibilità, semplicemente, di scaricarlo, ma in realtà, lo volevo legare, appunto, a degli esercizi, a qualcosa, diciamo, a riprova, della partecipazione al corso, che comunque sono videocorsi, un'altra cosa, che mi sarebbe piaciuto fare, aggiungere degli esercizi, potrei mettere degli esercizi, però, ovviamente, è una cosa abbastanza grossa, cioè, vuol dire tutto o niente, e mi è venuto in mente, che un'altra cosa interessante, che Jupiti poteva aiutarmi a fare, era, fare code review degli esercizi, e quindi, ho sviluppato, gli esercizi, per ogni, tra l'altro qua, spoiler anche, vabbè, il primo esercizio, facile, ha detto, facciamo gli esercizi, inseriamo la possibilità di fare gli esercizi, direttamente nella piattaforma, per ogni lezione, quindi ogni lezione ha il suo esercizio, ogni utente ha il suo esercizio, c'è un codice di base, un codice, diciamo, di partenza, dopodiché, e facciamo, fa anche una review dell'esercizio, visto che possiamo, no? Quindi, lo studente cosa fa? Qua c'è il testo dell'esercizio, insomma, più facile, tutta la piattaforma, direttamente qua, nell'editor, nella piattaforma, esegue l'esercizio, scrive il suo esercizio, dopodiché può richiedere, una review immediata, all'AI, che ho limitato a tre, perché poi, dei limiti strutturali, da qualche parte, spoilerino, non ho alzato i prezzi, perché sono pazzo da legare, ma va bene così, non mi interessa, però appunto, ho messo dei limiti, per evitare, miliardi di richieste, verso, verso appunto, l'LLM, qua non c'è limite, per adesso, anche qua forse dove lo metto, però qua invece c'è un limite, quindi avete tre, potete chiedere tre review, a Jupiti, ormai lo chiamo, lo chiamo giusto, adesso qua, devo mettere Jupiti, Jupiti, ed è molto fatto bene, in realtà, inizialmente, non era fatto niente di che, nel senso che, qua ho fatto molto prompting, invece, che sto scoprendo, mi sto appassionando molto, devo dire al prompting, e sto scoprendo, quanto sia realtà complesso, non è semplicemente chiedere le cose, ma, come, strutturando, tutto quello che poi è il proprio modo di comunicare, con il language model, si possono tirare fuori cose interessanti, andiamo a vedere qua, che fate, ah, Luigi, Luigi è ghost, e, e quindi, quello che ho sviluppato qua è, l'analisi dell'esercizio svolto, ma, con tutta una serie di, non so se qua possiamo, parlare di gut rails, questo termine bellissimo, per dire, evito che l'AI vada per i fatti suoi, ma, qua, invece, la complessità è stata, e ancora, anche qua, come vedete c'è la beta, con la carotta, la complessità qua è, farlo stare, dove voglio io, cioè, non voglio che lui, analizzi il codice, lui, intendo, OpenAI, del caso, analizzi il codice, e basta, ok, dimmi se sto codice è buono, per risolvere il suo esercizio, perché veniva fuori uno schifo, per farvi un esempio stupido, se qua, gli si dà un nome alla funzione, che può essere corretto, che io mettevo di default, il nome magari era, che ne so, il counter, se cose qua, per lui era già mezzo buono l'esercizio, che va bene, però, forse, forse c'è qualcosa che non, c'è l'utilità anche in quel caso, sul nome 0, e qui invece il gioco interessante, poi appunto ne parleremo, è stato quello di call prompting, in questo caso invece, ovviamente call prompting è tutta una serie di metadati, che mi salva tutte le pare, il database è esploso, in questi giorni, ma appunto tutta una serie di dati, che mi permettono di costruire, qualcosa che mi dia effettivamente, un feedback corretto, da parte dell'AI, ovviamente corretto, ma fino a un certo punto, e allora come vedete qua, c'è il cuoricino, per dare la possibilità a chiunque, oltre a GPT, qua devo cambiarlo, ormai devo chiamarlo GPT, perché ormai non riesco a dirlo in altro modo, di farmi, di chiedere una review a me, quindi volendo, qua uno scrive il codice, dice, guarda sta roba, non lo so, mi sembra sbagliata, l'avrei fatto così, tu non l'avresti fatto, e io, tempo umano invece, di vedere il codice, di vedere tutto, mi do un feedback direttamente io, perché ovviamente, per me, questa integrazione dell'AI, doveva essere utile, non può sostituire, uno a uno, troppe cose, può essere molto utile, ma non può sostituire, quindi mi piace anche l'idea di avere, di avere, diciamo, a fare, che mi faccia da spalla, diciamo, per dare appunto una mano, soprattutto nell'immediato, ma alla fine sono io che, che voglio, ovviamente, fare la parte, diciamo, diretta con gli studenti, ed è ovviamente, infatti, nelle live, nei meeting che faremo, Giuppiti non verrà, ve lo dico, mi dispiace, quindi, questa è la parte di esercizi, che secondo me, è anche molto molto figa, al di là di tutto, perché appunto, ci sono esercizi, per ogni capitolo, in base, agli argomenti visti, per ogni lezione, in base agli argomenti visti, e poi, avendo strutturato tutto, da qui in poi, ci si può anche giocare, lavorare, aggiungere esercizi, vedremo, ho visto anche degli editor, molto più evoluti, potrebbero mettere, degli ide, qua, direttamente, che si fanno anche, tante prima, come, varie sandbox, che ci sono, anche magari, specifiche di React, qua, ne ho usato una, perché mi interessava, adesso iniziare, a vedere come si comporta il tutto, però qua, ci sono ampi margini, anche per sviluppare cose interessanti, quindi questa è la parte di corsi, che in realtà, era l'unica cosa che dovevo fare, però, aggiungere esercizi, aggiungere la code review, delle, di GPT, delle AI, è la mia, secondo me, è un bel valore aggiunto, andiamo avanti, andiamo avanti, con, in realtà, una cosa che ho voluto aggiungere, perché ci tenevo tanto, perché secondo me, sta dando un po' la direzione, a quello, a quello che vorrei, sia il progetto, ovvero la possibilità di avere, una pagina solo per la community, in cui andare a gestire tutta la parte, che è sempre un po' più difficile da tenere, per esempio, qua come vedete, questo è l'orario, che non so dove sarò, che, 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 che cosa mi sta dando qui, perché, anche se ho diffuso orari a caso, voglio, comunque, avere molti più meeting, con i ragazzi, abbiamo visto che, facendo molto materiale, abbiamo fatto un sacco di corsi, e di masterclass, soprattutto negli ultimi mesi, vedete, abbiamo fatto un sacco, per cui anche, questa in cui parliamo di Cicciarchette, Massai, Persone 14, Docker, sono tante, ma, quello che, la direzione in cui voglio andare, è avere più possibilità, di incontrarci, di parlare, di discutere, fare poi il programming, al di là, poi, dei corsi, quindi adesso, volendo, appunto, creare una, fare molto più community, andiamola così, abbiamo un'area apposta, in cui abbiamo, il prossimo evento, abbiamo link, anche, è più semplice trovare tutti i link, ci sono tutte le registrazioni, degli incontri che facciamo, che ovviamente, non sono su YouTube, non sono da nessuna parte, ma siccome non tutti possono venire, molto spesso, appunto, mi chiedono, qua, ci sono tutti gli eventi, anche perché, adesso che ho un, che ho il mio, ho la mia SDN, con cui io ci gioco, faccio le cose, voglio caricare tutti i video del mondo, e così, e poi ci sono anche le istruzioni, per chi si regista, quindi per i nuovi arrivati, o no, uno che si perde, finalmente c'è un posto in cui, finalmente, se cos'è i Discord, che è sempre un casino, per chi arriva, qua, si ha la possibilità di dirmi, ok, sono nuovo, sono io, è tutto più facile, qua c'è il, per partecipare al progetto nomade, quindi, il tab, essere aggiunto al board, ovviamente, per contattarmi direttamente, quindi qua, c'è un dialogo, e le istruzioni di base, e poi c'è, finalmente, un posto in cui, avere sotto occhio cosa succederà nella community, qui non c'è, potrei aggiungerlo, potrei aggiungerlo, poi sabato ne parliamo con i ragazzi, segnatevelo, però, eh, le newsletter potrebbero andare a finire qua, effettivamente, ognuno ne dice una newsletter, in cui parliamo di novità, parliamo di, anche news interessanti che mi capitano, e di che punto siamo, o se ci sono eventi, o se ci sono sondaggi in corso, eccetera, queste cose le aggiungerei qua, quindi penso che, queste cose le, le svilupperemo, e questa però era un'altra cosa, che era il programma, ma, Giupti, ci riserva ancora una, una sorpresa, l'ultima, ah, eccolo qua, ciao, ciao Giallo, bello il menu di navigazione, ho già citato, l'ispirazione che mi hai dato, non ti preoccupare, non potevo non farlo, poi certo, col brutal, sono tutti bravi a fare le cose fighe, posso dire la mia? posso? col brutal sono tutti bravi, però sì, però sì, Gianluca mi ha dato l'ispirazione, ha snellito molto, anche il copo d'occhio, mi piace, mi piace, quindi ho aggiunto, ho aggiunto questi, per ieri adarvi, non ti preoccupare, non ti preoccupare, è sempre piacere, Gianluca che, adesso io, io commetto le persone parlando nel live, Gianluca con cui stiamo, organizzando qualcosa per giugno, eh Gianluca, grande, mitico, mitico, prossimamente daremo i dettagli, grande Gianluca, mi dico solo, centro Italia, eh, ok, dicevo, della UI, l'aggiunta di questi, di questi cerchi qua, mi fa impazzire, mi fa impazzire, devo leggere i tooltips, sono un po' pesanti, vabbè, quindi, ultima cosa, ultima cosa da presentarvi oggi, e poi facciamo un riassunto, anche per spiegare come funziona il tutto, perché c'è una novità grossa, un nuovo, che lasciamo per ultima, che è un programma sperimentale, che sto iniziando con alcuni, quindi vediamo, magari posso fare questa prova, può essere interessante, ma ne parliamo alla fine, che è l'interview, l'interview, perché una volta che ero lì a sviluppare cose, a giocare con cose, quando mi è spuntato sotto gli occhi, la struttura per fare, quello che vediamo adesso, e siccome appunto adesso, avendo giocato moltissimo, con i vari language model, con varie integrazioni, questa cosa che aveva tutta una serie, di altre complessità tecniche, in realtà, che ha ancora, ho sempre paura di avviarla, ancora, perché c'è di tutto, c'è webass, invece di tutto, in questa ultima funzionalità, però secondo me, può essere veramente, veramente una cosa strafiga, che è la possibilità, di fare un colloquio tecnico, con l'AI, barra con Gupiti, anche qua, diventerà Gupiti, perché se poi la gente arriva qua, non lo capisce, se sei qua, lo sai che cos'è Gupiti, ovvero, la possibilità di mettere insieme, un po' di cose, che adesso vediamo, e fare un vero e proprio colloquio tecnico, ovviamente, ci sono diverse soluzioni, non per fare un colloquio tecnico, no, può esserci un esercizio da fare, ma questo c'è già, la pagina di corsi, soprattutto nel corso di algoritmi, per esempio, sono delle vere e proprie domande, che potrebbero capitare, tipo questo qua, sulla ricerca binaria ricorsiva, queste potrebbero essere domande tecniche, da colloquio, e le scrivi, fai le funzioni, bello, ma, quello non lo avrei aggiunto, una parte solo, per fare un colloquio tecnico, scoprendo le risposte, perché, gli esercizi fanno, secondo me, già questo ruolo, ma, la cosa figa, che quando ho visto, ho detto, ok, adesso ci lavoro, ed è quello che mi ha fatto impazzire, mi ha fatto veramente sclerare, è stata la possibilità, di inserire, i colloqui tecnici, video, e questo, secondo me, può essere, qua, la beta con la carota, come vedete, qua c'è addirittura, funzionalità in beta, per rimarcarlo, questa, secondo me, è una funzionalità, è una funzionalità, molto, molto, molto figa, aggiungiamo, su spazio, torno in chat, che qua, quindi, non in Vietnam, no, non è in Vietnam, non è in Vietnam, perché, troppo scono, centro Italia, venite al mare a Fano, commettiamo anche Leonardo, se vuoi, occhio, occhio a intervenire, anche Leonardo, vediamo, vediamo, poi Leonardo ti spiego, e ne parliamo, Leo sarebbe il top, vedi, vedi che Gianluca, già a Leo si è acceso, poi ti scrivo, in privato, e ti spiego, qual è l'idea, e assolutamente, sei, sei super a bordo, quindi, come funziona questo? Si ha la possibilità, di fare un colloquio, ovviamente, li ho strutturati, sui corsi, che abbiamo fatto, perché giustamente, uno viene qua, studia in base ai corsi, però, qua si può fare la qualunque, in realtà, come funziona? Funziona così, si sceglie, l'argomento del colloquio, tra i tre argomenti, che ho preso dai corsi, per ogni, per ogni corso, ci sono, in questo momento, tre domande, di difficoltà crescente, difficoltà che ho deciso io, quando si inizia, la questione, che appunto, è un colloquio video, ovvero, si ha la possibilità, di fare un vero e proprio colloquio, come funziona? Anche qua, dobbiamo vedere, che tutto funzioni, si funziona, non ho idea, cosa vedete voi adesso? Vedete tutto? Si, vedete tutto, ok, quindi, io mi trovo adesso, in questo momento, la possibilità, di fare un colloquio, con chi, con me, ma, questo qua è GUPT, questo qua, adesso lo potete vedere, è molto simile a me, potrebbe, potrebbe sembrare la stessa persona, tra l'altro, questo qua è il co-working, cui sono rinchiuso da settimana, per fare tutta sta roba, in queste sale scure, faccio le live, faccio i video, e quindi, come funziona? C'è una domanda, bisogna rispondere, si hanno due minuti e mezzo, così un tempo anche qua, è stimato, ci possiamo, ci si può lavorare, bisogna parare un po' queste cose, come funziona? Io adesso provo a farlo partire qua, col fatto che sto registrando, sono in live, ed essendo che questa è veramente, una funzionalità, molto, come dire, sperimentale, vediamo cosa succede, l'idea qual è? Quando schiacciate qui, vorrei sapere come funziona, lo you state in react, e a cosa serve? In questo caso, vuole sapere cos'è lo state, quindi potrei spiegare, che lo you state, si usa in react, per gestire degli stati, che rimangono consistenti, tra render, trigger or render, eccetera, eccetera, sono detto così, ora vediamo se funziona, perché ripeto, sto facendo un po' troppe cose, qual è l'idea? Che una volta che fai, il video, il video non viene salvato, da nessuna parte, tramite appunto, dei meccanismi, rimane tutto qua, in questo caso, come vedete, vuole sapere cos'è lo state, quindi potrei spiegare, che lo you state, sui user in react, quindi, io cerco di rispondere parlando, questa è la cosa, che secondo me è molto utile, al di là di tutto, quello che vediamo adesso, il fatto di cercare, di rispondere a delle domande video, avendo la domanda, fatta da, giù pt, che si finge me, a video, è interessante, quindi, si ha quella possibilità, di mettersi in point, alla prova, tra l'altro, a seguito dei corsi, quindi, c'è anche un nesso, come dicevo, il video non è salvato, da nessuna parte, quindi, faccio delle elaborazioni, dato client apposta, non volevo nessun video, di persone, e avere problemi, di quel tipo, però, quello che faccio, in tempo reale, è prendermi, la risposta, in questo caso, vuole sapere, cos'è lo state, quindi, potrei spiegare, quindi, la trascrizione, che funziona anche, abbastanza bene, dopodiché, prendo, e cerco di dare un feedback, qua il lavoro, è più complesso, in realtà, ni, perché arrivati a questo punto, si riconduce, ma è difficile, qua è tutto un altro lavoro, di prompting, in questo caso, ma l'idea, è appunto, cercare di contenere, la trascrizione, la domanda, e tutto, aggiungere tutte le informazioni, ogni domanda, è arricchita, in modo da, cercare, di fare un'analisi, accurata, e non semplicemente, chiedere a Chargpt, non chiedo mai, a Chargpt, dimmi tu, questo è il mio obiettivo, il mio obiettivo, è sempre mettere insieme, tutta una serie di elementi, creare un prompting, sensato, della parte più difficile, e usare Chargpt, solo per mettere insieme, queste informazioni, qua per esempio, ho detto delle cose, ho menzionato, che è un hook, processi di stati, che riguardano le consistenze, se è utilità, trigger o render, tuttavia, ho usato, delle ripetizioni, eccetera, eccetera, quindi, cerco anche, di valutare il modo, in cui ho parlato, che è sicuramente, un po' più, però è sempre, abbastanza accurato, sto aggiungendo molti, io continuo a chiamarli, guardrail, ma forse non sono guardrail, ma dei controlli, al prompt, per cercare, di contenere, il più possibile, l'analisi, cercando di guidarla io, che è una cosa, molto complessa, però, ripeto, secondo me, questa è un'ottima cosa, è una cosa fichissima, per esercitarsi, a parlare, di spiegarlo, c'è un video, il video viene analizzato, a livello testuale, poi, e in questo modo, si possono fare, dei veri e propri colloqui, incredibilmente, immaginavo il bug, qua, sono sincero, è vero, non ce ne sono più stati, ma è stata la cosa più complicata, e quindi, l'idea è che per ogni corso, adesso ci sono questi, se ne possono fare, infiniti qua, e vedere come va, e aggiungere domande, e, sì, inception di Giuppi, ma no, perché quello è Giuppi T, non è Giuppi, cioè, c'è una bella differenza, e secondo me, questa funzionalità, che è la più sperimentale, di tutte, in realtà, perché, perché devo un pochettino tarare, la risposta, come vi dicevo, per cercare di darla io, ma ci sono stati, dei grossi miglioramenti, facendo tutta una serie di operazioni, di aggiunta di informazioni, per ogni domanda, un lavorone, come vi sto a dire, però, sta iniziando ad avere, ad avere un bel senso, anche questa funzionalità, ciao, 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 ciao Adelina, allora, quindi, questa era, l'ultima funzionalità, di Gupiti, penso di averle fatte vedere tutte, quindi ricapitolando, andiamo in un page, così vi faccio vedere un po' anche, il riassunto di tutto, qua, spiego un po' tutto, quello che vi ho spiegato, anche per chi, ogni tanto, cerco di essere chiaro, sul sito, ma non sono bravo, adesso ho cambiato questa parte, per dare, le informazioni, di come funziona, tutta la piattaforma, come funziona la community, eccetera, eccetera, qua, spiego, tra l'altro, questo sono io, tre ore fa, forse dovrei fare una foto migliore, però mi piace, non so perché, perché è strana, vabbè, come ho detto, più volte, non sono bravo, a fare né marketing, né contenuti, né altro, e va bene così, però, però, mi sono molto, sono veramente, il risultato mi piace, perché è funzionale, non è, questa AI, che c'è qui, la prima AI mentor, italiana, che sia la prima, non ne ho idea, chi se ne frega, è la prima, su questo sito, mi piace, perché ha un senso reale, può davvero aiutare gli studenti, può mettere ordine, tra tutti i video, e quindi, oltre a darti una risposta, ti dice dove, in quale lezione abbiamo parlato, e ti riporta esattamente lì, permetti di avere, una code review immediata, quindi si può avere, un feedback immediato, ma, a questo, si affianca, la mia code review, quindi per ogni esercizio, comunque, si può arrivare a me, questa anche, è una cosa importante, e poi, un colloquio tecnico, che non pensavo, di riuscire a mettere in piedi così, ti dà la possibilità, di esercitarti, davvero parlare, devo dire, che la trascrizione, mi ha stupito, per qualità, che era la cosa, soprattutto, perché faccio, molte cose in locale, dall'utente, perché non voglio prendermi, cosa io, quindi il video, non esce mai, il video è la prima cosa, che sparisce, però le trascrizioni, sono molto, molto buone, e adesso, che ho aggiunto, tutta una serie di cose, poi, ripeto, farò dei video a parte, ma, faremo i dietro le quinte, già sabato, con la community, già, comunque, eh, che venditore, sabato, quindi, se volete venire, sabato, poi dopo, non ne parliamo più, scherzo, ovviamente, ma, sicuramente, con la community, vedremo il retroscena, di tutto, perché, useremo un sacco, di queste cose, sul progetto Nomade, soprattutto, il prompting, che secondo me, è una skill fondamentale, molti mi chiedono, tra le tante cose, cosa studiare, ora, fare prompting, mi sembra un altro mestiere, ma, da sviluppatore, è la cosa, che più mi ha messo in difficoltà, perché, bisogna ragionare in maniera diversa, ma ha un potenziale, devastante, devastante, e mi piace, vedere come, imparando a, a modellare, indirizzare, il language model, si vedono, effettivamente, i risultati, pensavo, che, vabbè, alla fine, mi risponde sempre lui, a caso, c'è GPT, invece, dandogli contesto, più contesto possibile, dandogli, un know-how, di partenza, mettendo il prompting, nella maniera corretta, si riescono, a vedere, degli improvement, di qualità, quindi, questi servizi, adesso sono, in beta, ma è solo l'inizio, poi ho già in mente, delle cose che, soprattutto sul colloquio, il prossimo step, potrebbe essere inquietante, io solo questo, inquietante, potreste indovinare, potreste indovinare, il prossimo step, non so se è il prossimo, che farò immediatamente, ma una cosa che vorrei fare, che anche, mi fa, paura, nel colloquio, oltre a farvi la domanda, non mi fermo qua, però potreste arrivarci, io ve lo dico, dopodiché, quanto costa, come funziona, in realtà funziona uguale, ho deciso, avevo in mente, potrei fare, che costa di più, che tutti mi rompono, che costa poco, costa poco, ma ne frega niente, perché, a parte che, il poco è relativo, ma in più, l'altro è qua, perché non lo stiamo facendo, eccolo qua, facciamo prima così, l'idea, cioè il fatto che, a me non interessa, fare prezzi più alti, semplicemente perché, a parte che non dovrei forse parlare così, si parla così dei business, non mi interessa neanche di questo, però, siccome c'è un sacco di studenti, che mi chiedono, e, di base, uno studente, anche a, a meno soldi, mi piace l'idea, che sia il più accessibile possibile, come community, quindi, penso che sia un prezzo, più che valido, anche se adesso ci sono, iniziano ad esserci parecchi corsi, adesso arriva a Docker, c'è tutte le masterclass, chi se ne frega, quindi l'idea è che, il prezzo è rimasto lo stesso, ovvero, 25 euro al mese, si è accesso a tutto, non c'è, non ci limite di niente, ma, se prendete i sei mesi, invece costa decisamente di meno, secondo me, ne vale la pena, anche perché, è vero che un mese, entrate, uscite, vedete le cose, è easy, però, secondo me è interessante, per la community starci più tempo, fare cose, adesso stiamo creando delle cose, ci saranno, appunto, dei meeting dal vivo, insomma, la mia idea è, cercare di fare più community, è quello che mi piace, ma, ho iniziato questo piano sperimentale, che si chiama Insieme, perché, non lo so, l'ho scritto come please hold, ed è rimasto mi piacere, che invece, la possibilità, visto che molto spesso, mi viene chiesto, adesso, appunto, ne ho iniziato un paio, una possibilità molto limitata, questo numero potrebbe anche scendere, non lo so, è molto impegnativa, come cosa almeno per me, la possibilità di fare una mentorship personalizzata, ovvero, ci si incontra, due volte al mese, si fa il punto, si costruisce un percorso insieme, e, ovviamente, oltre a tutto quello, che c'è della community, eccetera, eccetera, questo è anche interessante, anche questo costa, costa di meno se, con il piano, con il piano di sei mesi, ripeto, è una cosa che limito, perché non ne avrei il tempo di seguirlo, e per ogni studente, che vuole un percorso personalizzato, mi ci dedico, per, appunto, avere, effettivamente, un percorso personalizzato, e starci dietro, e, vi assicuro che, per fare bene queste cose, ma chi di voi fa mentorship, c'è altri ragazzi che le fanno, sanno che, lo si fa più che altro, anche fuori dalle ore, quindi, non penso che prenderò più di dieci persone, ne ho già qualcuna, che rientra nel calcolo, quindi, se vi interessa, per adesso li potrebbe sparire sta roba, non lo so, però, visto che qualcuno me la chiede, mettiamola così, se volete, un percorso personalizzato, c'è, e questo è quanto, qua ho trovato qualche fuck, va schifo, qua c'è i miei bellissimi feedback, che mi hanno dato alcuni studenti, ce n'è altri che, raga, più di quattro colonne, non volevo mettere, però mi è piaciuto un sacco l'idea di fare gli audio, qua trovate una lista parziale di quello che c'è, e basta, e basta, tra l'altro adesso viene fuori che non stavo condividendo, no, stavo condividendo, secondo me è venuta adesso fuori una piattaforma abbastanza bella, mi auto celebro oggi, però sono contento, perché sono state tante settimane di lavoro, tantissime di studio, grazie di nuovo a Piero e alla community di Shesher Cat, perché mi hanno veramente illuminato, all'inizio ho sbandato parecchio, idee di cose da fare, ma non è che avessi le idee su come fare tutte queste robe, quindi ho dovuto sperimentare tanto, e grazie a Shesher Cat ho avuto un percorso sicuramente più facile, da questo punto, mi sono concentrato sul capire come fare le cose che volevamo, infatti per la Devex secondo me è imbattibile, quindi se vi interessa, ovviamente come promesso, come dovuto, eccolo qua, c'è il bel logo che riporta il sito, se vi interessa comunque provate, ma ne parleremo, ne parleremo adesso, l'idea, dove state? eccolo qua, l'idea è fare adesso un po' di video, in cui vi racconto pezzo per pezzo le cose, perché veramente è stato super interessante, buttarsi in queste cose, ci sono diversi modi per fare queste cose, uno è Shesher Cat, uno è usare Vercel, con le sue librerie, molto più vincolante, ci sono delle difficoltà ulteriori, tutte le questioni di cloud, ci sono tutta una serie di cose da valutare, il carico, ovviamente non ho un modello mio in locale, ma un domani potrebbe esserci, e anche questo è il bello di usare un framework, che vi permette di essere liberi, di usare quello che volete, altre librerie, che anche uso adesso in alcuni pezzi, sono però più vincolanti, guarda caso OpenAI, quindi non volevo legarmi troppo a OpenAI, come è facile, fino invece succeda, quindi vi consiglio caldamente di studiarvi un framework, e appunto invece che partire magari con l'HangChain, che vi permette di fare la qualunque, è quello che usa lo Shesher Cat sotto le cose, ma molto più complesso, anche nei miei vari esperimenti, è anche più complesso ottenere il stesso risultato di qualità, perché ovviamente un framework vi aggiunge delle strutture, che fanno il meglio di voi, dopodiché studiare il tutto, vi permette di fare le cose per i fatti vostri, di capire meglio come fare le cose, di farne di dove, ma nel processo, diciamo almeno questo è quello che ho fatto io, che sto facendo io, sto usando dei framework, mentre studio le basi, poi alcune cose le faccio con l'HangChain Puro, cerco di capire dove sbaglio, tutte queste cose qua, ma ne parleremo, l'idea è fare adesso altri video, per raccontarvi varie cose, molto tecnici, sabato, appunto per tutti i ragazzi, che adesso saranno lì, tra l'altro potete lasciare il dominio di test, www.juppi.dev, www.juppi.dev, adesso è tutto in produzione, è andata lì, è incredibile, è andata a test dei disastri senza senso, e Vercel come hosting, vi dà dei limiti senza senso, adesso per fortuna ho una WPS dedicata per giocare in libertà, parleremo anche di quello, parleremo anche di quello, e dunque ciao, ciao FireFert, Manuel Morrone, ciao Manuel, cosa usi per la trascrizione? Dipende quale, vabbè in realtà uso Whisper, se questo mi intendi, poi appunto in realtà c'è il meccanismo da video, audio, un giro, però uso Whisper, banalmente per fare la trascrizione, che sono dei margini di miglioramento probabilmente, se anche se hai delle idee, però vabbè, uso il più comune, fa bene il suo lavoro, devo dire la verità, lo fa molto bene, grazie, grazie, magari se scrivi, adesso io non mi ricordo, perdonami, ma magari sei nel team, nella community, e magari mi hai aiutato pure tu, tra le varie cose, quindi grazie, però sì, veramente, straconsiglio, perché ho iniziato, le primissime cose, appunto la parte di video, di addestramento, e pensavo fosse più facile, onestamente, per esempio tutti quei servizi che trovate, date un video, e vi fa subito riassunto, capito, è un lavoro molto complesso in realtà, da fare a mano, grazie al fatto di usare un framework, mi sono concentrato solo sull'analisi dei dati, e il fatto che delle persone mi hanno, ah già, ma io ho ancora queste robe, scusate, eh sì, ho ancora questa, bellissima funzionalità, però appunto, potendo utilizzare un framework, una community, strafiga, questo è la poppa, ed è per questo che mi piacciono le community, per questo che sto cercando di costruire una community, più che una piattaforma di studio, poi, la piattaforma, adesso, secondo me ha un livello altissimo, cioè, funziona bene, si usa bene, tutto questo, con qualche bug in più, e qualche cosa che ancora devo sistemare, si può usare da, da cellulare, anche il colloquio, l'ho provato da cellulare, funziona, e quello che funziona da cellulare è mezzo miracolo, infatti, non vi dico neanche di provarlo, se siete iscritti, non provate, datemi più tempo, ma funziona, dovrebbe funzionare, dovrebbe funzionare, però la cosa figa, che ho già in mente un'altra marea di idee, qualcuno aveva spoiler, già sabato, vedete il marketing, se volete venire, i nostri incontri segreti, dovete, dovete entrare nella community, però è veramente figa, è veramente, sono stracontento, c'è l'idea di fare questa roba, per i ragazzi della mia community, con l'idea di utilizzare poi tutte queste cose, in un progetto da fare insieme, mi ha dato un sacco di carica, perché ripeto, c'è stato un sacco di lavoro, continuo a dirlo, scusate, ma sono stati giorni intensi, che nessuno mi ha detto di fare, la consegna di stasera non esisteva, se non nella mia testa, per questo che vi ripeto, se avete dei progetti, datevi queste consegne immaginarie, perché vi aiutano un sacco a spregarvi di più, però mi piaceva proprio l'idea di dire, con queste cose adesso possiamo creare, nel progetto che faremo, Nomad, ma anche altri progetti, ho già in mente delle cose, che secondo me si possono fare con la community, o degli hackathon, non spoileriamo niente, potremmo fare anche un bel hackathon, a giugno, e fare queste cose qua, e per tutti quelli che mi chiedono, io parlo spesso dell'AI, non vi spoilerò, anzi sì, vi spoilerò, siamo qua, siamo tra amici, sto provando, avete presente Davin, l'AI, il nuovo software engineer, che prenderà il nostro posto, io, quando ho visto quel video, quando ho visto quello che faceva, stavo cercando di mettere insieme un sacco di pezzi, nella mia testa prima, prima di tutto, su cosa puoi fare, puoi fare con un language model, vedevo in Davin, un insieme di routine, di scripting, di sandbox, di tante richieste ai model, niente di rivoluzionari, niente di, oh ma fa cose da solo, non fa cose da solo, hanno messo insieme una serie di meccanismi, che hanno dei limiti, hanno dei limiti fortissimi, non si inventa soluzioni, ma sono interessanti, sono interessanti, e un video che farò, settimana prossima spero, riguarda la versione open source di Davin, perché c'è già una versione open source, che non è lui, ma che sotto, fa una cosa molto simile, perché chi poi ci lavora, chi impara a gestire queste cose, queste cose le puoi fare, metti insieme appunto dei loop, delle cose, insomma si può fare, comunque me ne parlerò, me ne parlerò in un video, e quindi il mio consiglio è, usate le AI, non solo copilot per andare più veloci, perché può anche cancellare dalla vostra memoria, come si tratta di programmazione, tra l'altro, tutte queste cose, sono state fatte senza l'aiuto delle AI, non sono più abituato a usarle, copilot, e non mi ricordo di riutilizzare, qua mi avrebbe aiutato, mi avrebbe velocizzato, ma ormai è andata così, però, quello ci può stare per andare più veloci, per studiare no, ma quando io dico, cercate di avere a che fare con le AI, intendo anche utilizzatela per creare delle cose, anche perché continuo a dire AI, vorrei dire language model, il language model sono super interessanti per una marea di cose, ma finisce lì, usatele, fateci cose, io sono super contento perché non ho utilizzato adesso dei model per dire, ok, ce l'ho anch'io, ho fatto la chat, è finita lì, ma ho creato qualcosa di realmente utile per la gente che studia sulla mia platform, realmente, secondo me, è un film che mi sono fatto, ma tutto aveva l'ottica di, questo è utile, così possono cercare le cose, possono andare direttamente nei video, cercando in chat, fighissimo, possono avere dei feedback immediati, per me sono cose utili, e quindi, e quindi niente, e quindi niente, devo dire che ho visto aziende con vagine importanti fallire, nel raggiungere neanche il 50% a quello che hai fatto da solo, complimenti, troppo buono Francesco, ti ringrazio, ripeto, tutti i limiti che ci sono dietro questa cosa, ci sono da fare tanti test, ma ripeto, devo ammettere che sono molto contento del risultato, spero che si veda, al di là di tutto, penso che tecnicamente, sia davvero la cosa più bella che abbia mai fatto, nel senso che, per complessità e numero di funzionalità, poi in pochissimo tempo, per tutta una serie di ragioni, ma, manca la qualità, la qualità, manca la qualità, manca il test, su test, ci sono degli ampi margini, mi vero a me, ti ringrazio, ti ringrazio sicuramente, mi fa piacere, devo dire che mi ha aiutato tanto, per esempio, il fatto che lo stile sia figo, cioè, questo me lo dico da solo, anche qua oggi, proprio, discrivetevi se mi sto antipatico, però, nel senso, avevo una forte base, cioè, la piattaforma, di fatto, mi piaceva, è abbastanza funzionale, quindi non ho dovuto reinventare anche la UI, non ho dovuto rifare tutta una serie di cose, che portano via un sacco di tempo, altre cose le ho rimandate, alcune funzionalità, appunto, arriveranno piano piano, quindi, si può fare, non c'è un admin, in tutto questo, ecco, parlando di retroscena, in tutto questo ci dovrebbe essere un bel admin, per gestire tutti i metadata, e lì, invece, faccio veramente ogni volta fatica, ma al momento devo fare tante cose a mano, di dati, eccetera, questa è una bad, bad practice, però, per l'utente finale cambia poco, io devo fare un po' il mazzo in più, però, comunque, diciamo, delle cose già che mi servono, tipo la newsletter, la creare direttamente in piattaforma, col markdown, anche questo potrebbe essere interessante, se poi vi interessano un po' di robe, proprio prettamente tecniche, tipo come crearsi una propria piattaforma, mandare mail in markdown, direttamente da una propria piattaforma, in react, next, e cose così, se vi interessa, voce a farci altri video, altre chiacchierate in live, sicuramente ne parleremo, qui ragazzi, eh, della community, che venditore, ammazza, grazie, grazie Michele, sono contento che ti piaccia, io, al di là di continuare a dirvi, se vi interessa, guardate la qualità, se vi interessa, questo è il sito, della community, ci saranno appunto, vabbè, per chi, per i ragazzi, della community, ve l'ho già detto, in altre sede, su Discord, sabato, ci sentiamo, chiacchieremo, sia di questo, che del progetto Nomade, il progetto Nomade, è un progetto, che è molto interessante, dove utilizzeremo queste cose, quindi, se vi interessa metterci mano, lì, ci metteremo mano, a tutto, pari pari, quindi, riutilizzo le mie skill, che ho studiato apposta, e, tra domani e venerdì, vi mando i task, come da scorsa live, che sono quasi tutti pronti, ma non ve li ho inviati, perché la mia testa si è chiusa a riccio, su questa cosa del progetto, che spero vi piaccia, l'ho fatta per voi ragazzi, però, appunto, vi mando i task, così sabato parliamo anche del progetto, e andiamo avanti, come vedete, ci sono tante, tante cose da fare, ma lì le facciamo, come sapete, con più calma, l'idea lì è imparare, anche facendo come ho fatto io, qua ho imparato da solo, un sacco di cose, quindi, con lo stesso modo, modello, lo faremo nel progetto nome, per tutti, per tutti invece, spero che, appunto, il progetto vi piaccia, al di là, poi che siate dentro o meno, spero che, di avervi dato anche degli spunti interessanti, magari avete qualche idea di cosa da fare, sappiate che con i language model, oggi si fanno tante cose, vi consiglio caldamente, Shisharket, ovviamente, dovete, accollarvi Python, scusa Piero, che in realtà è super friendly, quindi se anche non lo conoscete, l'ultimo problema, proprio Python, però veramente, veramente super, un bel progetto italiano, Piero è bravissimo, la community è spettacolare, veramente, io ho studiato, grazie alle persone, questa è la cosa figa, però, giocateci, giocateci, e da lì, vengono fuori idee, vengono fuori cose, si capisce come sfruttare l'AI, questo famoso mostro, che ci, che ci ruba, il lavoro, in realtà è semplicemente, per adesso, quello che vedo, è un bellissimo strumento, per dargli in pasto cose, e farsi dare altre cose dietro, veramente, il potenziale, per fare una marea di cose c'è, ovviamente il valore, poi sta fuori, secondo me, il valore deve essere cose utili, devono essere cose, che si integrino, con un ecosistema, e si deve avere sempre, tipo, non ho idea, di costruire, una piattaforma, tutta AI, per dire, che vada da sola, secondo me, deve esserci sempre, il modo, di attraversare, quindi, se l'AI, può darti, un feedback immediato, come nel mio caso, tu devi essere sempre, in grado di arrivare, però, avere a che fare con qualcuno, allora, andiamo sulla filosofia, però, secondo me, è anche figo, fare questa accoppiata qua, grazie, grazie, Piero, io spero di spingere, e cercare altrettanto, perché, merita, poi davvero, quando ci sono community belle, è veramente bello, Python da best, e qua, mi spiace, ma chiudiamo la chat a Piero, perfetto, ok, ragazzi, va bene, direi che è stata, una bella chiacchierata, se avete domande, fatemele ovunque, per chi mi segue qua su YouTube, commentate video, c'è la mail, intanto, ma le mail, dal sito, giupi.dev, potete anche scrivermi, c'è Discord, giupi.dev, slash Discord, per gli amici, per tutti, invece, chi è interessato alla community, ma non ha idea, se fa il caso, o meno, scrivetemi, se avete domande, un sacco di gente, mi scrive su Instagram, ragazzi, io Instagram, non lo uso, perché, cerco di usare social, perché, se no, sto a tappo, e non studio più, e quindi succede che vado su Instagram, vado in messaggi, vado in messaggi nascosti, o quello che è, e c'è gente che mi ha chiesto cose, e mi sono perso per un sacco di tempo, mi dispiace, ma Instagram me lo guardo poco, cerco di andarci, se mi scrivete direttamente su YouTube, o via mail, cerco di rispondervi, più velocemente, esatto, anche Slack, scusa, scusa, lo so, lo so, intanto, ti ho iniziato a rispondere, poi, come hai visto, ero abbastanza preso, ma, ti rispondo, continuiamo a nostra chiacchierata, però, però, ti consiglio caldamente, io adesso ho fatto, adesso, ti uso esempio, per riprendere, così ti rispondo, si parlava appunto, da junior, soprattutto, nella cerchia del lavoro, come fare per studiare, tecnologie che non si conoscono, soprattutto, quando, ai colloqui, o agli annunci, chiedono, di più cose, che non conosci, questo, può essere un esempio, per te, ma per tutti, no, io adesso, mi sono messo a fare, questa piattaforma, che, può essere vista, come una cosa, super complessa, fuori dalla porta, e va bene, però, è l'esempio, nel senso, mi sono, molto, molto, cimentato, nel fare questa cosa, che è una cosa, reale, cioè, nel mio portfolio, immaginario, immaginario, nel mio portfolio, io posso dire, ho creato questa piattaforma, che fa queste cose, con quelle tecnologie, e posso raccontarti, quali ho usato, come le conosco, quanto ne so, perché, ne ho padronanza, abbastanza, perché, ci ho battuto tantissimo la testa, ho avuto un sacco di bug, perché c'è sto bug, perché, ovviamente, senza fare, GPT, anche perché è un GPT, marchio registrato, non è vero, non ho registrato, però, va bene, però, se dovete fare, nel tuo caso, per esempio, mi chiedevi, di React, no? Vedi, sto cercando di capire, se React è difficile, o se mi serve fare prima TypeScript, perché lo chiedono spesso, fai un progetto in React, questa è l'unica risposta, che conta, in questo momento, io, lo so che saresti in grado, ti conosco, saresti in grado, di fare un progetto in React, non avresti nessun limite, nel farlo, ovviamente, ti serve magari il corso, adesso, non ti vuoi comprare il mio corso, perché, fare pubblicità così, che non ce la faccia, ma in generale, studi a React, mentre fai un progetto, o prima studi, quello fai, ma fallo, non temporeggiare troppo in questo, ovviamente, non ti basta fare un progetto React, per conoscere React, ma è da lì che si parte, da un progetto che poi, sia magari anche un progetto che può aiutarti nel portfolio, tanto meglio, quindi non fare il clone, il clone di qualcosa, crea qualcosa di utile, io ho un progetto per me importante, che è la mia piattaforma, e quindi mi è facile, avere qualcosa di reale su cui lavorare, per studiare, ma fare il tuo sito, questa è la prima cosa del portfolio, ma poi siti per altre persone, oppure dei progetti molto interessanti, magari semplicemente interessanti, perché si stimolano, facciamo caso, che io adesso ho utilizzato e c'è sciarchette per la mia piattaforma di studio, mettiamo che non avevo una piattaforma di studio, ma volevo studiare questa cosa, quindi come interfacciarmi con il language model, creare il mio agente intelligente, eccetera, avrei trovato qualcosa per me utile, che ne so, adesso faccio un esempio stupido, leggo tanti libri, ho il mio database, non ce l'ho, ma facciamo finta che sia abbastanza organizzato, di avere un database di libri che ho letto, una cosa che avevo iniziato a fare, come second brain, era per ogni libro cercare di scrivere, sia un po' come era fatto, ma anche la parte di impressioni mia, cosa mi aveva lasciato, eccetera, parentesi purtroppo breve della mia vita, ma è molto interessante come lavoro, ora, ho dei dati, ho dei dati miei, potrei creare la versione mia, che ha letto tutti i libri, che ha in pasto quelle cose, il mio second brain dei libri, a cui posso chiedere le cose, ora, non è vendibile, potrebbe essere vendibile, ma non è un progetto, fatto per terzi, non è online, disponibile a chiunque magari, ma, in fase di colloquio, è molto utile, perché io posso raccontare un caso reale, particolare, e anche voluto, il fatto che sia così, fatto su di me, fa sì che io ci metta molto più effort, che abbia degli obiettivi concreti, e quindi mi permetta di fare le cose, in maniera più approfondita, quindi con React, si può fare un progetto, un'applicazione, per esempio, la parte video, non è impossibile, ci sono delle librerie, per fare queste cose, e quindi, trovare una propria spinta, magari legata alla propria passione, ma che non sia il semplice sito, mi piace, mi piacciono i manga, questi sono i manga, qua c'è un bel carusello con dei manga, qua c'è la pagina, ogni manga scrive delle robe, è un inizio, ma si possono cercare, di fare cose più interattive, cos'è che potrebbe servirmi, o mi serve il calcolatore di tasse, anche lì, un po' pieno, però, potrebbe, siccome è una cosa che mi uso, che mi serve, potrei, mettermi molto di più, quindi usare un caso concreto, mi aiuta sia a imparare meglio, ma può essere molto più interessante, anche da parlarne in colloquio, devi imparare React, cercare cose interessanti da farci sopra, e fallo, TypeScript prima o dopo, è rilevato, vuoi farlo dopo, farlo dopo, non è un problema, te lo chiedono, a una certa puoi iniziare a farlo, non è così complicato, tra l'altro, con TypeScript, ci sono dei modi molto amichevoli, per iniziare, a integrare, per esempio, TypeScript in applicazione React, potresti fare l'applicazione React, la finisci, e poi, la converti in TypeScript, così, non ti carichi troppo di tu, puoi fare tante cose, spero di averti un po' risposto, la mia idea è, parti subito con un progetto interessante in React, se vuoi, cosa che ti consiglio di fare, Piero, ti posso intervistare qui su YouTube, su come hai usato il gatto, come lei a conversionare, col tuo applicativo, ma certo, ma certo, non sono abituato a parlare davanti a una telecamera, assolutamente sì, stravolentieri, se posso essere testimone, testimonierò, credo che tu abbia centrato il punto, non lo so, questo me lo devi dire tu, non so qual è il punto, quindi, spero di aver centrato il punto, spero di invogliare altre persone, non ho messo in descrizione, male, i vari link del gatto, adesso ve li metto, perché il cuore pulsante sia dell'applicazione, ma di come ho studiato altre cose, cioè poi, per dire, il prompting non è del gatto, ma è da lì che è partito tutto, è partito poi tutto anche lo studio per fare meglio tutte le varie cose che ho inserito, quindi, secondo me è proprio un bel modo facile per iniziare. Prego, prego, fammi sapere comunque, postiamoci anche su Slack, molti pensano che l'AI sia un oggetto in sé, sì, no, ma infatti, io qua, appunto qua ci sono altre persone, c'è chi ci lavora, tra l'altro, che adesso ci devo fare una chiacchierata, un'azienda malta, non lo so, però ci devo parlare, però, è esatto, è un intervallo, a parte che adesso io faccio il figo, ma molto mi arriva da te, Piero, da, ne hai parlato anche, a Gitbar, se non sbaglio, sei venuto qua, ne abbiamo parlato, io ti seguo per Via Traverse, tu fai un'ottima divulgazione su questo, sul fatto che appunto può essere sfruttato come interfaccia conversazionale, dici bene, e si presta la system integration più che altro, esatto, esatto, a me, anche per esempio, una cosa su cui ho giocato, qua non l'ho usata, ma ci farò un video, sullo scrapping, ah che bello fare lo scrapping, mi posso prendere tutto, e poi gli dico, tirami fuori qualcosa, ovviamente quel tirami fuori qualcosa, deve essere motivato, glielo dovete motivare bene, ma, nel fare prompting di quel tipo, io non devo più sbattermi, ciò, per il mio gestore della partita IVA, cui mi sono trovato sempre bene, ma non hanno delle API, e devo sclerare a fare scrapping, per fare delle cose in automatico, che non ci voglio fare a mano, automatizzato, ma fatte a mano da me, con Playwright, è stato un po' una palla, fare le cose, potete usare una language model, non l'ho ancora fatto, ma, lo scrapping, per esempio, potete prendervi un sito, ve lo scaricate, e poi, non ci dovete neanche pensare, se è lettore, non me ne frega niente, non me ne frega niente, prendi sta roba, e tirami fuori qualcosa, secondo me, in questo momento è interessante, domani potrebbe essere, non avremo più i JSON, ma chiacchiereremo tra sistemi, si potrà fare, secondo me, senza problemi, lo so, magari, però assolutamente, comunque seguite Piero, anche per la parte divulgativa, perché, vi spiega un sacco di cose, in maniera super chiara, anche questo è il bello, quando uno divulga, che rende chiare le cose, alle persone, che cercano, nel mio piccolo, di fare io nel mio orticello, cioè, l'unica cosa, cerco di spiegare le cose, in italiano corrente, non con troppi tecnicismi, e quindi, per questo, poi farò, video dedicati, per ogni funzionalità, per ogni cosa che ho imparato, eccetera, eccetera, quindi, se vi interessano questi argomenti, state su questi canali, iscrivetevi, ripeto, qua c'è il link, www.gopi.dev, vi metto dei link, per le varie cose, in descrizione, e noi ci vediamo presto, sabato, con la community, qua sul canale, per i prossimi video, adesso poi vado in Giappone, quindi, mi sa che per un po', sto un po' fermo, con le live, oppure, potrei farle, perché se le faccio, al mattino prestissimo, inizia a essere, tipo, mezzanotte, quindi con qualcuno, potremmo farci chiacchierate in live, vediamo, vediamo, però un po' adesso stacco, e, mi riposo un attimo, però Piero, se tu, vuoi, da te vengo, da te vengo in live, dai, la chiacchierata, super piacevole, la faccio volentieri, va bene ragazzi, grazie, per tutti, chi è stato qua, grazie a chi, a chi ha partecipato, chi, chi ha accettato, e, fatemi sapere nei commenti, feedback anche cose, e chi la sta provando, datemi feedback, siate i miei test, che non ho fatto, ragazzi, buona continuazione, qua, sono le 10 di sera, vado a dormire, a presto, ciao ragazzi,